Ciao a tutti e ragazzi sono Rick si è stato tratto con questo nuovo video scusatemi la pronuncio ma è la quarta top di fila che commento insieme a tantissimi altri video dietro oggi siamo qua tornati con la diciannevesima top 5 clip of the week io vi ricordo come al solito che se volete inviare i miei clip dovete passare dal link in descrizione non disperatemi nel caso la vostra clip non sarà presente in questa top e vi ricordo inoltre che per qualche strano motivo il mio modulo dove tengo tutte le vostre clip dal 27 agosto in poi ha deciso bene di non prendere più tutte le clip che mi avete inviato quindi nel caso vi ricordassi di avermene inviate alcune in quel periodo comunque io ragazzi direi che si può subito iniziare qua con la quinta clip che ce la porta GXT Yogi e ci porta una quadrupla di C4 su MU3 più una kill dopo quindi una 5 manfield con una bella quadrupla bellissima clip a mio parere ora non so se era di preciso una quadrupla o una quinta ma comunque si merita tutta la quinta posizione bellissima clip io direi subito di passare alla quarta che ce la porta Rex Arles classico trickshot su Kari ormai ne state venendo uno a top ma non li inviate tantissimi e secondo me sono carini ora ho visto che comunque li inviate tanti quindi non li metto più in posizioni altissime ma comunque questo qua sicuramente merita una posizione del genere ha fatto pure uno switch con Remington ha fatto tutto quel casino che non ho mai capito di chi fa i trickshot bellissima clip direi subito di passare al podio la terza posizione che ce la porta Jari Kilder un mio grandissimo amico che ci porta un clutch 1v4 quindi Ace però era da solo contro 4 persone quindi molto più difficile su Lega ce l'ha velocizzata grazie mille se no mi tocca sempre a me anzi a mio fratello a tagliare le clip e velocizzarle qua ne prende due il secondo non so se non avesse le mani oppure se è stato già bravo a prenderla comunque ha fatto una doppia qua prende l'ultimo è finita la clip direi subito di passare alla seconda clip che ce la porta Seba e ci porta un ninja defuse su questa mappa del DLC non la conosco molto bene tanto qua dovrebbe essere velocizzata se non erro e se ci fosse stata la reaction l'avrei messo alla prima posizione perché mi piace tantissimo immagino il nemico come ci rimane male mi ricordo sempre il defuse di Karma ovviamente a livelli un po' più alti comunque bellissima clip direi di passare subito alla prima posizione che ce la porta Lorefuxxxxxx2 il nome è anche questo bellissimo insomma parlo io che ho XD in fondo il nome comunque ci portano a 5 manfeed su Ghost con un collaterale in fondo non me l'avete mai inviata l'ho premata anche perchè su Ghost comunque bellissima clip secondo me mi ha arrivato tutta la prima posizione vi ricordo come al solito che se volete inviarmi le clip dovete passare al link in descrizione nel caso della topi che vi sia piaciuto il video lasciate un ruolo di piace commentate e iscrivetevi se non siete ancora e quindi ragazzi ho finito ciao a tutti